Se noi collaborassimo, se noi utilizziamo un po' di struttura... ...e un po' di struttura ce l'abbiamo e paradossalmente posso dirti se voi dirci vi collegate a noi 23, 13, 10, 15... Noi abbiamo tutte le risorse, voi non ce le fate a metterci un gruppo, noi siamo un gruppo. Se voi li aggiungete, noi aumentiamo le risorse e le risorse che aumentiamo le facciamo a metterci un gruppo. Ci sono di 10, noi siamo di 10, 10 avremo 50.000 euro al mese per un gruppo come noi e per voi si arrivate. Cioè vuol dire sostanzialmente in termini personale tranquillamente 7-8 persone che possono essere assunte a disposizione. E nell'accordo dove tu dai, noi prendiamo, noi diamo, voi prendete e ragionate. Grazie. 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 Grazie.